Buon giovedì 31 agosto. Ancora una volta una riflessione registrata, ma effettivamente un paio di giorni fa, per commentare con Alina, proporre una riflessione che ci porti poi al laboratorio di oggi pomeriggio e alla scuola. Intorno a un tema che inizia un percorso che va verso il congresso dei CLEP, ma non solo. Va anche verso una nuova fase dei programmi territoriali che stiamo condividendo ormai da molti anni. E riguarda un tema molto particolare, difficile, ma fondamentale, senza il quale non è possibile interpretare l'esistenza a partire da una visione ecosistemica. La questione della autonomia e la questione della interdipendenza, della relazione. Molto spesso capita nel mondo dei CLEP che le persone dicono di non sentirsi a loro agio nel dire cose particolarmente importanti e profonde di fronte ai loro familiari. Naturalmente quello che dicono è ciò che i familiari già conoscono, però preferiscono tenere il tutto riservato. È uno stranissimo gioco psicologico, perché non è che stanno parlando di segreti particolari, stanno parlando di quello che accade nelle loro famiglie, ma lo vogliono fare in assenza delle persone con le quali hanno un legame affettivo, sentimentale, molto spesso anche conflittuale. E lo fanno in nome della indipendenza, forse anche in nome di una cattiva interpretazione della riservatezza, che si chiama privacy o privacy, seconda della pronuncia. Noi viviamo nel tempo della presunta riservatezza, in realtà viviamo in un tempo nel quale sanno più o meno tutto di noi. Siamo iper sorvegliati tecnologicamente, i nostri telefonini fissano dove siamo, dove siamo stati, facciamo attenzione per mantenere la riservatezza, ma questa non è garantita. Pertanto anche la tecnologia dimostra che è impossibile sottrarsi alla relazione. Ma c'è un altro aspetto che oggi io credo dobbiamo incominciare ad approfondire senza esaurirlo. Che cosa significa sottrarsi alla perturbazione in un contesto pubblico che riguarda le relazioni parentali, affettive e che vanno a incidere profondamente sulla espressività della autonomia di ciascuno? Per quale ragione teniamo nascoste queste perturbazioni e riteniamo che siano ininfluenti se sono perturbazioni che vengono da estranei? Che cosa stiamo difendendo in maniera assolutamente a mio parere inefficace e impropria, cercando un presunto distanziamento di ciò che è profondamente legato dalle relazioni? Che cosa stiamo negando? Il mondo vegetale, chi studia il mondo vegetale ha capito perfettamente che il fondamento della vita è il rapporto tra autonomia e interdipendenza. Lo scrive molto bene Stefano Mancuso nella Nazione delle Piante, sottolineando come il mondo vegetale testimonia da milioni di anni, molto prima di noi, che è impossibile sottrarsi alle relazioni. Noi che siamo arrivati dopo e siamo molto presuntuosi pensiamo di costruire delle strategie per dichiarare una impossibilità di accedere alla nostra intimità. Lo facciamo facendo un'opera selettiva, non rendendoci conto che non è possibile sottrarsi. Eppure noi viviamo una cultura nella quale anche il mondo professionale ha accettato questa visione che è antitetica al concetto di autonomia perché è votata soltanto al garantire la indipendenza della persona, magari rafforzando i meccanismi del funzionamento dell'io. Tutto questo che mi rendo conto è piuttosto confuso, però non è astratto, non è metafisico, non è veramente filosofico, è anche filosofico e metafisico se volete. Ma tutto questo ha a che fare col nostro modo di stare dentro alle contraddizioni e alle sofferenze che viviamo, soprattutto di fronte a una proposta che è quella del Klebe o della psicoterapia sistemico-relazionale, che invita sostanzialmente a lasciarsi un po' andare alla relazionalità senza timore di giudizio o di moralismo. Ecco, tu Alina, che stai approfondendo il tema del mondo vegetale, ma non solo, hai a cuore anche l'approfondimento delle tematiche complesse e a volte indecifrabile dell'autonomia del soggetto, che nasce poi da un'osservazione di come funziona anche la singola cellula, la quale è per sua natura interconnessa e autonoma, che ha un range di variabilità che è determinata intrinsecamente, in che non significa fissarla in una categoria precisa, ma in un margine di variabilità. La cellula in qualche maniera è una metafora di quello che noi siamo, in fondo altro non siamo se non un insieme complesso di cellule che poi costruiscono organi, cioè siamo un organismo molto complicato, che ha perso di vista la questione della complessità, mentre organismi apparentemente più semplici tengono in grande considerazione proprio il tema della complessità. Cosa ne dici Alina di questo? Allora, intanto buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questa riflessione di oggi. Ma tra l'altro, se vi risulta il tutto molto confuso, è nostra intenzione rimanere confusi in modo che poi al laboratorio e alla scuola potrete approfondire meglio. Sì, approfondire senza togliere la confusione in ogni caso. Comunque, no, allora, sicuramente i temi di oggi, ma i temi che noi trattiamo da un bel po' a questa parte sotto la cornice di vita e natura, non sono temi molto facili. Non vuol dire che non siano temi semplici, perché riguardano comunque la semplicità della vita, che in ogni caso va. Però non sono temi magari molto facili per noi, che siamo abituati invece ad altri linguaggi. Le nostre spinte culturali ci portano verso altri modi di pensare un po' più semplificati invece che semplici. E questi temi invece rimandano ad un modo di pensare che forse non è così immediato, è un po', come diciamo, a volte controintuitivo. Allora, a proposito di intuizione, le piante, come dicevi tu prima, eseguono questo compito di essere autonome ma interdipendenti in modo molto intuitivo, tra virgolette. Non è che ci pensano tanto su. Loro rispondono ad una chiamata dell'ambiente. Rispondono a questa chiamata dell'ambiente e semplicemente fanno. Fanno la relazione con gli altri, con gli altri insetti, con gli altri parassiti, batteri, funghi, altre piante e tutto quello che hanno attorno. L'essere umano purtroppo, come sottolinea anche Gregory Batson in questo capitolo verso un'ecologia della mente, che si chiama la finalità cosciente, l'essere umano ha un po' questo difetto. Lo chiamo difetto, tra virgolette, la nostra coscienza, la nostra razionalità, perché ci ha permesso, chiaramente, di arrivare molto lontano con la tecnica, la tecnologia, che è fatta anche per il benessere delle altre persone. Però allo stesso tempo questa finalità cosciente lo inganna. È un po' una benedizione e una maledizione allo stesso tempo. Lo inganna perché? Anche Gregory Batson dice che lo inganna perché, in qualche modo, lo illude. Lo illude di poter percepire, conoscere ed elaborare praticamente tutto quello che è il reale, tutto quello che succede attorno a lui, che fanno e dicono le altre persone. Attraverso questa coscienza si illude di poter, in qualche modo, rendere cognitivo e quindi renderlo percepibile, rendere cognitivo il cento per cento di quello che esiste. E invece non è assolutamente così. Moltissimi studi dicono che quello che noi riusciamo a percepire ed elaborare è una pochissima percentuale di quello che succede veramente. Cioè basta pensare a quello che le persone conoscono durante la serata di club e a quello che poi invece è la vita di una persona. tutto quello che succede oltre anche la serata del club che magari, come dicevi tu prima, si vergogna anche a dire, non lo vuole dire davanti a un familiare, lo vuole tenere per sé. E allora io penso che questa è una tendenza dell'essere umano. Cioè che naturalmente l'essere umano fa un po' fatica a lasciarsi trasportare, a lasciarsi andare alla relazione. proprio perché fondamentalmente il suo intuito gli direbbe di conservare le informazioni che ha nei suoi modi di funzionamento. E allora il problema è che, lo spiega benissimo sempre Gregory Besson in questo capitolo, l'essere umano è un essere vivente autocorrettivo come accennavamo anche al seminario di domenica scorsa 27 agosto. È un essere vivente autocorrettivo come tutti gli altri esseri viventi, anche come la cellula, come tutti gli altri esseri viventi che per riuscire ad andare avanti autocorreggio i propri meccanismi di funzionamento in base a quello che succede nell'ambiente. quindi in base a quello che succede io mi corrego in un modo piuttosto che in un altro e vado avanti. Ecco, il problema dell'essere umano lui dice è che è autocorrettivo rispetto a ciò che dà fastidio, rispetto a quello che infastidisce, che perturba, dicevi tu prima. E quindi tende a mettere da parte, a tralasciare quello che in qualche modo potrebbe perturbare il suo stato, il suo stato attuale, anche se è uno stato di disagio, cioè anche se è uno stato che Udolin chiamava l'incapacità di accettare se stessi alle condizioni date, quindi uno stato d'animo di forte disagio, ecco, l'essere umano è un po' improntato a voler comunque conservare quel modo di essere lì, anche se fa male a sé, agli altri, all'ambiente, eccetera, eccetera. E quindi quello che noi dovremmo imparare è iniziare ad accettare anche le cose che ci danno fastidio, ma non solo degli altri, soprattutto di noi stessi e magari anche non vergognarcene, perché spesso è questo che porta anche le persone a non dire, a non fare, perché magari si pensa ad un giudizio o a un giudizio, un autogiudizio che diamo di noi stessi. e quindi l'autonomia nell'interdipendenza, se noi lo intendiamo in questo modo, è anche a volte accettare quello che non ci piace di noi stessi e quello che non ci piace degli altri e poterlo condividere in questo caso. Ma secondo te che cosa spinge le persone a continuare a persistere in una condizione relazionale familiare segnata da conflitti e contraddizioni senza che nessuno lasci il campo sostanzialmente, o lo faccia in maniera subdola, senza in realtà lasciare il campo, no? E rimangono fissi, stabili, inamovibili, in attesa che qualcosa accade. Il giorno in cui chiedi bene, adesso insieme usciamo da questa condizione di stallo, una condizione di perturbamento nel quale c'è uno scotimento delle coscienze senza violare l'autonomia di nessuno e però lo facciamo in un contesto comunitario. C'è la vergogna, c'è una sorta di intuizione che quella realtà potrebbe sovvertire un equilibrio che per quanto disagevole, sconfortante, in realtà è un equilibrio e di fronte a sé hai anche l'ignoto, le cose vanno male ma potrebbero andare peggio. Pertanto alla fine ci si adatta anche alla condizione del malessere per paura di ciò che non è conosciuto, cioè ci si chiude sostanzialmente a riccio, si erigono delle barriere insormontabili per poter pensare di vivere una condizione triste, malinconica ma imperturbabile nel senso che nulla cambia magari pensando che forse aggiustando uno dei membri della famiglia le cose potrebbero migliorare ma anche relativamente a quanto dice Mancuso nelle Nazioni delle Piante è impensabile per un vivente agire indipendentemente dalle relazioni costituenti ma questo è un concetto che mi sembra che culturalmente al di là del grado di acculturazione non passa sembra quasi essere un ostacolo una forma quasi di ideologia che non permette di mettere in evidenza ciò che è sotto gli occhi di tutti che siamo profondamente legati alle relazioni Beh allora questa è un po' la questione da un milione di euro nel senso che è poi quello che si incontra tutte le settimane al club o chi fa esperienza di psicoterapia o di supporto psicologico è ciò che si incontra ogni volta che qualche persona ti domanda domanda una mano un aiuto in una situazione che è di apparente equilibrio nel disagio come dicevi tu prima io sinceramente non lo so non lo so qual è esattamente la ragione per la quale le persone scelgano no forse scegliere abbiamo messo in discussione sono spinte da qualcosa sono spinte da qualcosa e sono spinte nel rimanere in una certa condizione anche se fa male effettivamente io penso che oltre ad essere un adattamento come dicevi tu prima ha un equilibrio che preferiamo a un disequilibrio misterioso cioè non sappiamo poi se perturbandoci la situazione migliore o peggiora oltre a mettere in atto questo tipo di adattamento a un certo punto forse ci si affeziona anche volente o nolente ci si affeziona anche a delle immagini che noi abbiamo di una certa situazione anche se per certi versi è negativa fa male fa soffrire ci fa sentire molto a disagio però in qualche in qualche modo ci siamo affezionati quasi le vogliamo bene a quella situazione anche semplicemente perché dura da molto tempo ed è l'unica cosa magari che conosciamo e quindi a volte i piani si si sovrappongono anche il piano dell'affettività con il piano dell'adattamento e anche della vita pratica perché a volte si tratta proprio delle cose quotidiane che noi facciamo e nelle quali viviamo senza le quali non abbiamo più le coordinate della giornata del mese proprio le coordinate della nostra vita pragmatica di tutti i giorni e allora proprio ci si affeziona a certe dinamiche anche se fanno molto male e in questo affezionarsi chiaramente c'è anche un certo guadagno un certo vantaggio per le persone che stanno in determinate situazioni altrimenti penso che non ci starebbero cioè se proviamo a prendere a prendere un punto di vista tra virgolette darwiniano cioè di un vero adattamento ad una situazione un adattamento è possibile solo se c'è un vantaggio per la persona altrimenti non ci sarebbe l'adattamento e quindi anche in quell'adattamento che fa male che fa soffrire c'è un certo vantaggio una certa affezione e quindi le persone forse devono imparare a lasciare andare anche questi vantaggi e anche queste affezioni a certe situazioni perché spesso la retorica è sempre lasciare andare qualcosa di negativo quindi lasciare andare che ne so il bere che è negativo o una certa relazione che è negativa e invece no non è proprio così a volte le persone per superare una situazione di disagio devono lasciare andare anche qualcosa che per loro è un vantaggio che per loro è positivo a cui vogliono bene ecco ma secondo te qual è il timore profondo probabilmente atavico che è nel mettere a nudo in un contesto di riservatezza ovviamente perché il club garantisce la riservatezza è una delle pochissime regole del club la riservatezza non la privacy ma la riservatezza che è un'altra cosa radicalmente diversa diciamo che la privacy è il puro formalismo un po' ipocrita la riservatezza invece è un impegno etico che io non userò mai quello che vengo a sapere per dileggiare l'altro o l'altra anzi sarà occasione per rispettarli nella loro dimensione esistenziale anche se avessero fatto una chiamiamola pure scelta di status quo di omeostasi che comprendiamo essere una condizione che è intrinsecamente caratterizzante l'essere umano cioè paura dell'evoluzione non è che nel mettere a nudo tutto questo nel mettere in pubblico ho detto a nudo perché mi è venuta in mente la fiaba del re è nudo il sovrano che gira tra la folla e nessuno osa dire ma finché uno dice il re è nudo questa è una dichiarazione fortemente perturbante che associerei anche a quella condizione della servitù volontaria della schiavitù volontaria in fondo chi si chiude dentro le mure di casa in una condizione triste e omeostatica inaccessibile a qualsiasi forma di perturbamento magari anche per ragioni ma è meglio che la gente non sappia quello che succede qua dentro poi alla fine tutti sanno altro che una forma di autoconsegna alla schiavitù quanto è maggiormente liberante lasciarsi andare alla perturbazione evolutiva che non necessariamente produrrà chissà quali miracoli ma sicuramente muove un pochino la situazione pensi che ci sia anche questa componente di chiusura atavica che è ben rappresentata nella fiaba del re nudo nel testo della schiavitù volontaria sì alla fine è proprio quello che succede al club o quantomeno quello che io vedo succedere e che ho visto succedere in questi anni di partecipazione nel senso che a volte si fa fatica a dire proprio quello che in verità tutti vedono alla luce del sole e che solo chi lo sta vivendo non ha il coraggio di ammettere molto spesso è proprio così però in questo in questi discorsi che le persone fanno come dicevi tu prima proprio mi viene in mente la dinamica del club dove ognuno poi dice come è andata la settimana se sono successe delle cose eccetera eccetera e in questi discorsi molte cose sono è come apparecchiare sono dei discorsi che apparecchiano e ogni tanto raramente è molto raramente però ogni tanto c'è qualche parte del discorso che arriva ed è veramente liberante però allo stesso tempo mi rendo conto che sono dei momenti veramente difficili da raggiungere sono anche molto delle dinamiche molto delicate io sono stata partecipe in prima persona me stessa ma anche l'ho visto succedere nelle altre persone nelle altre relazioni a volte ci sono questi momenti liberanti dove le persone dicono qualcosa che è veramente vero tra virgolette oltre a tutto il contorno del discorso che poi le persone fanno per raccontarsi e farsi anche conoscere dagli altri e questi momenti effettivamente forse il club è quello spazio dedicato proprio a quei momenti liberanti che però non dimentichiamo ci sono veramente rari non succede tutte le settimane non succede neanche tutti i mesi forse succede una volta all'anno o ogni qualche anno ecco quindi è un invito sostanzialmente a venire serenamente al club tanto l'evento miracoloso della perturbazione significativa è talmente raro che potrebbe anche non accadere esatto quello che spesso diceva Udoli che in fondo l'importante è andare in modo perseverante al club ma nella stragrande maggioranza dei casi non è che accada un granché forse perché noi non siamo un granché siamo assolutamente imperfetti ma questo non toglie valore al club anzi lo riconsegna proprio la dinamica della vita tempi dell'evoluzione sono lunghissimi a volte non siamo in grado neppure di calcolarli anzi molto probabilmente non siamo in grado di calcolarli pertanto vedete ragionando in queste torno a queste cose il titolo magari può sembrare un po' ostico diciamo ma io non ho fatto le spole alte quindi non mi metto a ragionare intorno ai temi dell'autonomia della indipendenza della vita che non dipende dell'interdipendenza ma per carità no no stiamo ragionando di cose molto concrete che accadono di settimana in settimana al club indipendentemente dal grado di acculturazione sono fatti concreti ripeto non metafisici che riguardano la vita reale delle persone e pertanto affrontiamo con coraggio e perseveranza non solo la realtà del club ma anche questa azione di educazione continua che non ha nessuna pretesa di forgiare gli altri e non ha nessuna pretesa ideologica è semplicemente espressione di un pensiero che vuole essere sostanzialmente rispettoso delle scelte di chiunque però è un pensiero che è una visione un modo di vedere che viene proposto e anche chi lo propone io Alina e siamo certi che in fondo non è che l'abbiamo totalmente compreso poi se andiamo a vedere le nostre vite concrete di fronte a molti ostacoli reagiamo in modo tradizionale e sicuramente il club serve per chiunque entri che faccia il servitore insegnante che sia stato considerato una persona interessata che venga considerato semplicemente il familiare siamo tutti allo stesso livello tutti dobbiamo esprimere la disponibilità di essere messi in discussione e nessuno pretenda di essere più bravo degli altri tutti abbiamo un'occasione di perturbazione significativa ma questo poi lo discuteremo oggi pomeriggio al laboratorio e poi alla scuola e poi nelle settimane successive al seminario del 17 di settembre bene intanto buon proseguimento della mattinata e ci vediamo il pomeriggio ciao a tutti a dopo ciao a tutti ciao a tutti